Le due donne farebbero parte di un gruppo rom che si muove molto, che aveva come punto di riferimento il campo della favorita fino alla sua chiusura e che adesso potrebbero appoggiarsi all'insediamento spontaneo dello Sperone in via 27 Maggio o in altri campi temporanei che spuntano in provincia di Palermo. Gli investigatori del commissariato Reto e la procura ordinaria di Palermo stanno dando la caccia alle due donne che in tempi diversi, il 12 ottobre, la prima e martedì scorso la seconda, sono fuggite dall'ospedale dei bambini abbandonando la neonata di quattro mesi in una delle 12 stanzette del reparto di malattie infettive allestite per i piccoli pazienti affetti da Covid-19. La seconda donna, che in ordine di tempo si è presentata in ospedale, è positiva al Covid ed è fuggita violando l'isolamento obbligatorio. Entro Natale la piccola Anna avrà una nuova famiglia che l'accoglierà con tutto l'amore che merita. La neonata di quattro mesi presto verrà data in affidamento. Il procuratore dei minori di Palermo, Massimo Russo, che ha chiesto al Tribunale lo stato di abbandono per la piccola, ha così potuto attivare tutte le procedure per l'affidamento. La neonata è nata a Caserta nel luglio di quest'anno. Secondo il certificato di nascita, da genitori romeni che apparterebbero alla comunità rome. Ma su dove siano, sul motivo per cui la bimba era a Palermo e sul perché nessuno dei due si sia mai presentato all'ospedale, gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi. Grazie a tutti.